Il pronostico del sindaco Pietro Tidei alla fine si è rivelato giusto. Sel ha detto sì alla delibera sui talcementi. Delibera che proprio come desiderava il primo cittadino è riuscita ad uscire dalla Pucci senza alcuna modifica, con venti voti a favore. Quelli della maggioranza, eccezion fatta per il consigliere Flavio Magliani e i consiglieri di opposizione Mauro Nunzi, Dimitri Vitali, Giancarlo Frascarelli ed Enrico Zappacosta. Delibera a cui avrebbe dato un voto favorevole anche il leader dell'opposizione Gianni Moscherini, che all'atto del voto però era assente. Contrari invece i consiglieri di minoranza Daniele Perello, Luca Ballarati e Sandro De Paulis. Insomma, alla fine la delibera ha riscosso un successo a dir poco strepitoso, anche se non sono certamente mancate le polemiche per quel sì arrivato dai banchi dell'opposizione. Un tentato salto della quaglia per gli uomini di Selle, una semplice condivisione di un progetto che anche noi avremmo voluto portare a termine già nel 2001 perché, ha detto il consigliere Dimitri Vitali, è nella cultura della nostra politica pensare alla riqualificazione della città per i consiglieri di opposizione, che alla fine hanno alzato la mano. E a farvi da eco ci hanno pensato anche il consigliere Frascarelli e il collega Zappacosta. Per il primo, è assurdo che la maggioranza attribuisca all'opposizione i continui battibecchi, noi non ci vogliamo intrufolare. Per il secondo, è assurda la contestazione al voto favorevole dell'opposizione alla delibera da parte di Selle, forse diminuisce il peso contrattuale di qualcuno. Ed è stato proprio il tentativo di colonizzazione da parte della minoranza da un lato e il tira e molla di Selle dall'altro lato, ad animare la discussione in consiglio con un rimpallo di responsabilità da un punto all'altro della Pucci. Alla fine però, a determinare la vittoria del sindaco, è stata l'approvazione dell'ordine del giorno presentato dal gruppo di Selle. E' stato invece bocciato quello della minoranza e come ha detto il numero due del Pincio da una parte il primo cittadino dall'altro, oggi per questa maggioranza si apre una nuova fase. E T-Day ha anche annunciato l'avvio di una cabina di regia sulla prossima delibera che realizzerà i piani integrati. Grazie a tutti. Buongiorno, buongiorno e bentornati a Dentro la Notizia. Abbiamo visto subito il servizio d'apertura con il Consiglio Comunale di ieri su Italcementi. Italcementi larghissime intese, questo è stato il titolo che abbiamo scelto perché in effetti dà la possibilità che addirittura la maggioranza potesse avere grossi problemi con questa questione degli italcementi in Consiglio Comunale, con una parte della maggioranza che fino al giorno prima sostanzialmente non era certa di votarla, addirittura poi l'ha votata anche gran parte dell'opposizione. E questa è la notizia principale indubbiamente del giorno, con cui ne parleremo con i nostri ospiti. In studio vicino a me il Presidente della Commissione Urbanistica che ha trattato a lungo questo progetto di Italcementi, ovvero il Consigliere Fabrizio Lungarini, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno Lungarini. Buongiorno. E in collegamento esterno invece abbiamo la nostra collega del Quotidiano della Provincia, Sonia Bertino. Ciao Sonia, buongiorno. Buongiorno a te Stefano, buongiorno a consigliere. Allora, andiamo a vedere subito quelli che sono i titoli dei giornali questa mattina perché appunto ovviamente l'apertura è dedicata al Consiglio Comunale di ieri. Vediamo subito il Quotidiano della Provincia che titola Italcementi, in Consiglio passa la delibera, questo appunto il titolo scelto dal Quotidiano della Provincia. Approvata con i voti di Sinistra Ecologia e Libertà e di alcuni esponenti dell'opposizione, Flavio Magliani del Partito Democratico dopo le polemiche delle scorse settimane si è astenuto. Vediamo il titolo anche nella pagina interna, Italcementi, approvata la delibera, questo il titolo, tutti favorevoli in Consiglio Comunale alla linea dettata dalla Sindaco Tidei. Dopo settimane di contrapposizioni il gruppo di Luciani si adegua, Flavio Magliani coerentemente si astriene, anche i rappresentanti dell'opposizione alzano la mano per esprimere parere favorevole all'atto. Questo è quanto scrive il Quotidiano della Provincia. Vediamo il titolo invece anche sulla pagina del Quotidiano del Messaggero che è ancora più evidente. Italcementi vince il sindaco, questo il titolo. Approvata la stessa delibera contestata da Sinistra Ecologia e Libertà due settimane fa, sì anche dall'opposizione, votato anche un documento che dovrebbe mettere finalmente pace nella maggioranza. Questo è quanto scrive il quotidiano Il Messaggero che poi appunto riporta anche questa cabina di regia per i progetti, il risanamento in quattro mosse. Questo è quanto scrive ancora Il Messaggero sempre su questo argomento. Cominciamo subito allora a dibattere di questo argomento con il consigliere Lungarini perché insomma il titolo del messaggero è eloquente. Ha vinto il sindaco ieri. Io direi che ha vinto più che altro la città perché questo era un problema che era sulle spalle dei cittadini da più di 10 anni. 12 mi sembra il primo tentativo desio di accaparrarsi quelle aree per poterle riquarificare. Oggi arriviamo alla fine di un percorso e all'inizio di una nuova fase. L'obiettivo principale è abbattere l'ecomostro attualmente insistente su quell'area. C'è una zona industriale di 500 mila metri cubi che incombe su di noi con quei due pennacchi che ancora svettano sulla città. Noi speriamo nel giro di poco tempo e comunque dentro il termine del nostro mandato di vedere completamente abbattuta quell'area e avviare un progetto di riqualificazione urbana coerente, moderna e a servizio della città e del porto. Sonia, invece secondo te che hai seguito ieri passo passo tutto il Consiglio Comunale, si può parlare di retromarcia di Sinistra Ecologia e Libertà? Beh, nì, diciamo. Da una parte loro si dicono soddisfatti proprio perché alla fine il loro ordine del giorno è passato e in extremis proprio ieri mattina sono riusciti a far firmare al capogruppo del PD il patto su quei famosi 5 punti fra cui anche i talcementi. Però dall'altra parte direi anche sì, una sconfitta c'è stata. L'ordine del giorno non è un emendamento come ha ricordato il Presidente del Consiglio Marco Piendibene, quindi non è parte integrante di quella delibera che alla fine è stata votata. Una delibera che come aveva pronosticato proprio il Sindaco Tidei è uscita indenne dal voto in Consiglio Comunale e quindi alla fine gli dà ragione la vittoria del Sindaco sotto questo punto di vista. I cinque punti ci diceva Sonia Bertino Lungarini, adesso tornano in ballo questi cinque punti a cominciare naturalmente da quello più importante. Qual è quello più importante? Esatto, stavo correggendo, nel senso quello che magari potrebbe creare più problemi, ovvero l'ingresso in maggioranza di Pier Federici perché appunto non sarebbe rispettato il famoso codice etico secondo SEL. Cominciamo col dire che forse la notizia riportata dal messaggero è un po' intempestiva perché non mi risulta che sia stato né firmato né votato tantomeno quel documento con i cinque punti a quale io mi debbo necessariamente sottrarre perché la nostra lista Ritorno al Futuro non è stata coinvolta nella redazione e sottoscrizione di quel documento. Ripeto, io non l'ho visto firmato. In ogni caso ho avuto modo di leggerlo, condivido quasi tutto quello che è scritto su quel documento. Naturalmente il codice etico è stato firmato a suo tempo dai segretari di partito che si sono impegnati a tenere una linea, però purtroppo la politica richiede anche di sapersi adattare al momento. In questa fase io credo, vista anche la larga maggioranza raggiunta ieri dentro il Consiglio Comunale, che non ci sia alcun bisogno di allargare la maggioranza. Abbiamo ritrovato una grossa unità anche con i nostri fedeli alleati di SEL che discutono, litigano con noi, come dice Papa Francesco, tiratevi anche i piatti ma poi a sera fate pace. Ho un'ultima domanda su questo argomento, poi naturalmente andiamo a vedere anche quelle che sono le altre notizie lungarini, perché appunto, leggendo dal titolo del messaggero, in pratica ieri è stata approvata la stessa delibera che era stata contestata alla Sinistra Ecologia e Libertà due settimane fa. Lei è il Presidente della Commissione Urbanistica, quindi sa perfettamente se il documento è rimasto lo stesso o se qualche modifica c'è stata. No, certamente il documento è lo stesso che è passato in Commissione Urbanistica. In realtà, devo dire che Sinistra Ecologia e Libertà non ha contestato il contenuto del documento neppure due settimane fa. Avevo con me in Commissione il consigliere Agostini, con il quale abbiamo lavorato largamente. Dopodiché SEL ha avuto dei problemi di carattere politico, programmatico, legato sia all'ingresso paventato di Pier Federici in maggioranza, sia alla necessità di rilanciare il programma di governo, che a mio avviso è un comportamento del tutto legittimo. Se l'approdo a cui conduce è l'approvazione di una delibera importante come questa dell'Italcementi e il rilancio di un'azione amministrativa che deve essere improntata al rispetto del programma di coalizione. Bene, andiamo avanti. Archiviamo la pagina dedicata al Consiglio Comunale di ieri, di cui tanto comunque si continuerà a parlare per parecchio tempo, almeno questa è l'impressione, per andare a vedere quelle che sono le altre notizie. C'è questa, ad esempio, sulla pagina del quotidiano La Provincia, che troviamo a centropagina, che riguarda questo nuovo allarme inceneritore per quel che riguarda l'NBC. Questo è il titolo. I parlamentari di Sinistra Ecologia e Libertà hanno presentato un'interrogazione al Ministro della Difesa. Gino De Paulis, consigliere regionale, sempre dei vendoliani, dice che l'impianto sicuramente si farà, questo è quanto dice De Paulis. Stesso titolo nella pagina interna, se riusciamo ad ingrandirlo forse meglio, eccolo qua. NBC, c'è un'interrogazione parlamentare, i deputati di Sinistra Ecologia e Libertà chiedono chiarimenti al Ministero della Difesa sull'inceneritore. Per il consigliere regionale De Paulis l'impianto è già deciso. Vediamo anche il servizio che abbiamo realizzato su questo argomento. Il Centro Tecnico Logistico Interforza NBC di Civitavecchia ha l'attenzione del Parlamento. I deputati di Sinistra Ecologia e Libertà, di cui è primo firmatario l'onorevole Filiberto Zaratti, hanno presentato un'interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro della Difesa Mario Mauro e a quello dell'ambiente Andrea Orlando. In sostanza, i parlamentari di SEL chiedono chiarezza relativamente al Centro NBC del Ministero della Difesa, che tra gli altri compiti ha quello di demilitarizzazione delle armi e degli aggressivi chimici ritrovati sul territorio nazionali e risalenti alla Prima e Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, i deputati vendoliani chiedono di verificare se le attività che si sono svolte nell'impianto fin dai tempi del Ministero della Guerra abbiano alterato lo stato del suolo e delle falde acquifere e se siano state prese in considerazione diverse modalità di smaltimento finalizzate alla demilitarizzazione delle armi chimiche in luogo del previsto impianto di ossidazione termica. Dell'argomento, come noto, si era interessato per primo il consigliere regionale Gino De Paulis, che aveva lanciato l'allarme poi ripreso anche dalla deputata del territorio del Movimento 5 Stelle, Marta Grande. Ma De Paulis adesso si dice sicuro che ormai il dado è tratto. Dalle informazioni in nostro possesso, dice De Paulis, l'inceneritore si farà. Ormai è cosa fatta. Si conosce già il nome dell'impresa che dovrà realizzarlo materialmente, è una ditta della Germania ed inoltre c'è già il felinziamento dell'opera che si aggira sui 16 milioni di euro. Il fatto è che non si sa nulla perché, essendo il centro NBC un'area militare, è tutto coperto da segreto militare e non è stato effettuato alcuno studio pubblico né sotto l'aspetto dell'impatto ambientale né tantomeno sotto quello della sanità pubblica. Questo dunque è l'allarme lanciato in merito a questo inceneritore. Lungarini, certo che se davvero le cose fossero in questa maniera c'è da stare veramente preoccupati. C'è da stare veramente preoccupati, io credo che questo sia uno di quegli argomenti in cui ci dovremmo mobilitare tutti quanti insieme, al di là dei schieramenti, al di là dei problemi che possiamo avere anche di carattere personale perché è una questione che riguarda tutta la cittadinanza, è un'imposizione che viene dall'alto, non è stato interessato né il comune, né la provincia, né la regione, né tantomeno il Parlamento e neppure l'ARPA ha fatto, può accedere a quei siti per controllare. Ora sembra che addirittura, stando a quanto riportato ieri dal quotidiano, il fatto quotidiano sarebbero già iniziati i primi lavori all'interno dell'area boschiva all'intorno, è davvero preoccupante pensare che si possano smaltire armi chimiche addirittura della seconda guerra mondiale. Purtroppo noi allo stato attuale non abbiamo armi, questo è proprio il caso di dirlo, a meno che non si possano recuperare i superpoteri del sindaco in qualche maniera perché credo che soltanto lui possa entrare nelle stanze del Ministero della Difesa e far sentire la propria voce. Cioè che cosa potrebbe fare il sindaco? Il sindaco ha i poteri che riguardano la salute pubblica cittadina, quindi un potere di vigilanza nelle zone immediatamente limitrofe, però qui parliamo di un momento successivo alla costruzione, il momento in cui viene attivato e quindi l'unica speranza è cercare di fare una mobilitazione attiva come fanno in tutte le zone dove ad esempio è impredicato di portare la discarica, dove i cittadini scendono in piazza e manifestano insieme alle forze politiche per far sentire la propria voce. Il problema è che essendo area militare c'è il segreto militare, quindi non si sa nulla di tutta questa vicenda. Davvero preoccupante, io ieri ho letto all'Ibito quell'articolo e oggi sto in riflessione, cercherò di prendere contatti, anche il consigliere, anche la deputata Marietta Di Dei credo che potrà fare qualcosa per noi, cercheremo di metterci in contatto con lei e vedere, anche perché queste cose poi innescano un meccanismo anche nella cittadinanza che pensano che ora c'è l'inceneritore e poi quando non servirà più per smaltire queste cose a qualcosa potrà servire e noi questa cosa la dobbiamo assolutamente impedire. Sonia, anche la deputata del Movimento 5 Stelle Marta Grande mi sembra sia intervenuta su questo argomento. Era intervenuta lei chiedendo spiegazioni ma ancora prima, come avevi ricordato tu ed era stato ricordato anche negli articoli apparsi sulla stampa, il primo a lanciare l'allarme era stato proprio il capogruppo in Regione di Sinistra Ecologia e Libertà Gino De Paulis e parliamo già di diversi mesi fa, l'estate ancora doveva iniziare e il consigliere parlava proprio della possibilità di realizzare un inceneritore all'interno del centro chimico con la scusa tra virgolette di smaltire residui di armi belliche provenienti dalla Seconda Guerra Mondiale ma che poteva essere utilizzato anche per bruciare i rifiuti ed era stato proprio in questo senso che era anche stata scritta una mozione da parte del capogruppo in Consiglio Comunale Ismaele De Crescenzo proprio per cercare di impedire che su tutto il territorio potessero essere bruciati i rifiuti. Ecco adesso sembra un pochettino di ripercorrere un po' la storia che ha portato alla decisione del commissario straordinario Sottile di portare i rifiuti a Cupinoro. Faceva bene il consigliere Lungarini a dire quando ci sono delle situazioni del genere l'unica azione da poter mettere in atto è quella di protestare e scendere in piazza. Però abbiamo visto che proprio per evitare questo Cupinoro è apparsa dall'oggi al domani. Poi ne parleremo infatti dei rifiuti anche di Cupinoro ma so che volevi fare una domanda invece tornando al discorso di talcementi. Sì, ho sentito più che altro sull'accordo sui cinque punti perché giustamente il consigliere Lungarini diceva io non ho sottoscritto alcun accordo, infatti ricordiamo che l'accordo che Sinistra Ecologia e Libertà voleva sottoscrivere era proprio con il partito, ad oggi il partito di maggioranza oltre a Sinistra Ecologia e Libertà è proprio il partito democratico. Cosa certa soprattutto parlando anche di codice etico lo stesso Lungarini aveva detto noi essendo delle liste civiche non avendo un segretario di partito non avevamo sottoscritto quell'accordo. Però il caso Pier Federici non è un caso isolato perché quando va a parlare di una maggioranza che alla fine è stata compatta, unita e ha votato una delibera, ricordiamo pure la vittoria di Sinistra Ecologia e Libertà che diceva abbiamo fermato le larghe intese e quindi la possibilità di larghe intese c'è. C'è? Lungarini? Io credo che al momento non sia all'ordine del giorno questa possibilità, credo invece che ci sia in atto una strategia da parte della destra di cercare di minare l'unità di questa maggioranza attraverso anche questo voto in consiglio comunale di ieri. Io ho letto appunto questo tipo di strategia, secondo me hanno finto di spaccarsi a metà l'opposizione, una parte avrebbe assicurato in ogni caso il passaggio della delibera nel caso in cui Selle si fosse tirata indietro rispetto al programma e alla delibera di talcementi, in quel modo avrebbe in qualche modo minato l'unità di questa maggioranza svolgendo il suo compito di opposizione facendo passare la delibera e di fatto determinando una crisi di governo. Questo credo che fosse la strategia del centro-destra attualmente. Però diciamo una strategia un po' più silente già forse c'è stata. Andrea Pierfederici anche ieri durante il consiglio comunale ha detto io sono rappresentante di un partito però non mi viene riconosciuto questo ruolo. Pierfederici facendo parte del PSI è o non è in maggioranza? Questo è un punto che una volta per tutte l'amministrazione comunale dal sindaco Pietro Tidei a voi consiglieri comunali dovete sciogliere, dovete ben definire. Il caso Pierfederici in realtà è un caso che viene da lontano. Pierfederici sin dai primi mesi dal nostro insediamento ha cambiato diverse casacche, credo che siamo arrivati alla quinta, nemmeno nel carciomercato più estremo si era arrivato a tanto. Pierfederici ha fatto il giro delle cinque chiese in questo caso e credo che sia un problema completamente diverso dal caso di ieri nel quale addirittura l'ex sindaco Moscherini ha dichiarato il proprio voto favorevole alla deliberata al cemento. Io distinguerei le due ipotesi. Pierfederici va trattato in un modo perché è comunque attualmente fa parte di un partito che ha sorretto la candidatura di Pietro Tidei alle elezioni. Ma partito che ha sottoscritto un codice etico? Partito che ha sottoscritto un codice etico e infatti il partito socialista ha un grosso problema con i partiti di maggioranza. E quindi insomma una vicenda ancora tutta da vedere, tutta da verificare, la verificheremo naturalmente nelle prossime settimane perché poi appunto come dicevamo prima è uno dei cinque punti su cui sembra non voler transigere sinistra ecologia e libertà anche se poi abbiamo visto che anche sul caso di Talcementi la stessa delibera prima no, poi sì comunque staremo a vedere. Vediamo invece un altro argomento ancora, quello che troviamo a centropagina. Molto spazio danno i giornali a questa notizia che effettivamente è una notizia di cultura piuttosto importante. Addirittura appunto titolo di centropagina sul messaggero, quadro del Settecento restaurato grazie ai mecenati, una grande colletta coinvolta la città per la tela donata nel 1765 a Clemente XIII, si parla come dicevo di cultura. Un titolo che troviamo anche sulla pagina della provincia, quadrone papale concluso il restauro, sarà di nuovo possibile ammirare la tela settecentesca, la società storica cerita di chiese ringrazia coloro che hanno contribuito. Si dà spazio a questo argomento anche nella pagina interna, eccola qua, nuova vita per il quadrone papale ai cappuccini, concluso il restauro della tela settecentesca, apparizione della vergine e del bambino a San Serafino da Monte Granaro, società storica grazie a tanti piccoli mecenati locali per il prezioso contributo. Questo è quanto scrive invece il quotidiano della provincia. Tornando invece alle questioni che riguardano l'aspetto amministrativo, c'è un altro dei punti di cui si discuterà, ovvero le terme, perché intanto il sindaco Tidei respinge le avance di Acantus, l'azienda romana era tornata alla carica, scrive la provincia. Vediamolo il titolo anche nella pagina interna. Senza la subconcessione mineraria Acantus non realizzerà nulla, questo è quanto dice il sindaco Tidei che appunto fa chiarezza su questo comparto termale. Altro titolo che troviamo sempre sulla pagina della provincia è invece questo che riguarda l'interporto, il comune pronto a rilanciare sull'interporto, questo è il titolo, si pensa all'assorbimento dei lavoratori italcementi. Vediamolo anche qui, questo nella pagina interna, con il titolo appunto Interporto, il pincio vuole rilanciare collaborazioni, progetti sperimentali e contatti avviati con diverse società anche multinazionali. Iacomelli dice che stiamo facendo un grande lavoro, possibile l'assorbimento di parte dei lavoratori sull'italcementi. Vediamo il servizio di Daria Geggi su questo argomento, poi ne parliamo con i nostri ospiti in studio. Se fino a ieri il futuro dell'interporto di Civitavecchia era incerto, con la società tuttora in liquidazione e con problemi economici e strutturali, oggi addirittura l'ICPL potrebbe rappresentare l'ancora di salvezza anche per i lavoratori dell'italcementi. Stiamo promuovendo l'interporto a livello internazionale, ha spiegato il delegato allo sviluppo Ivano Iacomelli, stiamo collaborando con un'azienda svizzera e stiamo tentando di allacciare rapporti con diverse multinazionali con l'obiettivo di far diventare questi rapporti dei contratti entro la fine dell'anno. Stessa data fissata per risollevare le sorti economiche dell'azienda, ponendo fine alla liquidazione. C'è chi aveva dato per spacciato ormai l'interporto, ma le intenzioni dell'amministrazione oggi sono altre. Abbiamo rinvigorito il rapporto con la Royal Caribbean, che qualche mese fa era ad un passo dall'abbandonare il campo, ha aggiunto il delegato. Proprio con loro partiremo con un progetto pilota al chilometro zero per fornire prodotti locali alle navi da crociera. Progetto da ampliare poi alle altre compagnie. Crociere appunto, agroalimentare, ittico, ma anche settore automobilistico. Su questo punta oggi l'interporto. Stiamo gettando le basi per un lancio concreto, ha sottolineato Iacomelli. Alcune aziende e società hanno acquisito nuovi spazi, altre li hanno mantenuti. Stiamo tentando l'accordo con RFI per la realizzazione del binario, come chiesto da diversi partner e compagnie. Con la nuova dirigenza, uscito di scena l'ex amministratore delegato Ferdinando Bitonte, le cose sembrano cambiate. Lo stesso Iacomelli ha assicurato che non vi sono oggi problemi per i lavoratori e che anzi, se si riusciranno a sottoscrivere nuovi contratti, si potrà pensare ad un ampliamento di organico guardando proprio i lavoratori ex italcementi. Eccoci dunque dopo questo servizio sull'interporto. Io volevo affrontare questo argomento, ma non solo, anche quello delle terme, perché abbiamo visto i due titoli, quello sulle terme con Tidei che respinge le cosiddette avance, così le ha definite nel quotidiano la provincia di Acantus e poi il comune che invece è pronto a rilanciare su questo interporto. Anche questi due argomenti sono molto importanti perché tutte e due poi alla fine hanno la possibilità di dare molta occupazione. Io su questo do uno scoop, io preannuncio la mia personale, io sono personalmente favorevole allo sviluppo termale immediato, anche con Acantus. Acantus risulta essere proprietario di gran parte dei terreni che insistono in quella zona. Se risolviamo il problema amministrativo legato alla vecchia gara già bandita dalla vecchia amministrazione... C'è anche un problema amministrativo, c'è anche un problema penale. Bravissimo. E io voglio proprio attendere le contraddeduzioni fatte a quella perizia che ha avuto modo di visionare, che definisce quel procedimento a benorme. Io farai un piccolo time out su questa questione, aspettando le determinazioni magari del giudice delle indagini preliminari che scioglierà questa riserva e ci dirà se quel procedimento è completamente viziato oppure se si può sanare in altra maniera. Ma così facendo non si rischierebbe di portarla ancora per le lunghe? Come ha paura dal resto anche il sindaco Tidei? Io in realtà ho paura che se la si porti per le lunghe, se noi annulliamo tutta la procedura e riniziamo da capo, perché è già stato preannunciato un ricorso in tutte le sede civile e amministrative da parte della società che era la vecchia a giudicatari e quindi chi dovesse partecipare alla nuova gara per le terme si troverebbe ancora una volta sub iudice, come sub iudice attualmente sono anche la vecchia costruzione. Io sono per risolvergli i problemi, non per complicarli. Ecco, naturalmente laddove ci fosse la conferma che quel procedimento amministrativo vecchio era completamente viziato, non avremmo altra scelta che revocare quel bando e indirne un altro. Intanto qualcuno potrebbe essere interessato a partecipare di nuovo a questo, potrebbe manifestare di nuovo il proprio interesse, ma a oggi non mi sembra che nessun altro si sia fatto avanti. Io volevo fare un'altra domanda, se questa sua posizione, che effettivamente è abbastanza importante, è sua, personale o del gruppo anche che rappresenta il Consiglio Comunale? No, no, questa è la mia impressione. Io ho l'impressione che soprattutto nel campo amministrativo più si complicano le cose, più si rimanda alle calende greche alla risoluzione del problema e come dicevi te, dalla grandissima occupazione a Civitavecchia, di sviluppo e soprattutto lustro a una città come la nostra che ha un grandissimo bisogno di svilupparsi. In quella zona sono previsti cinque alberghi, un comparto termale, tutta una zona commerciale, addirittura delle risidenze di lusso. Io credo che non possiamo permetterci di ingabbiare una possibilità di sviluppo come questa. C'è lo stesso ragionamento di talcementi sostanzialmente, bisogna cercare di fare più in fretta possibile. Io sono per fare le cose, tu lo sai, io ho avuto un solo incarico diretto, una di quelle tele che ha mandato, riapriamo la marina. Io ho cercato di risolvere tutti i problemi nel giro di sei mesi e abbiamo riaperto la marina. Quindi la stessa cosa vorrebbe fare con le termine. A me piacerebbe. A proposito di occupazione invece, andando invece sulla questione dell'interporto, è perché si ritorna a dire che bisogna rilanciare questo interporto? Una frase che però ormai sentiamo da tantissimi anni, è solo che rimane sempre solo una frase. No, però a me sembra che in questa fase invece, in questo momento, sia accompagnato anche da alcuni fatti. Mi risulta che si stia riempiendo quell'interporto, prima non c'era neanche una cassetta di frutta, come ha detto ieri il Sindaco, oggi cominciano a riempirsi quelle zone e abbiamo la speranza di poter assumere personale, magari riassorbendo proprio quei dipendenti talcementi che anche loro da 12 anni aspettano una collocazione definitiva. Ricordiamo che quei dipendenti talcementi alcuni fanno i terocinanti della giustizia, quindi i problemi di attività si intersegano, la loro mobilità, la loro cassa di integrazione è in scadenza imminente, noi dobbiamo cercare di trovare una soluzione, anche se veramente con le casse comunali non è semplice risolvere questo tipo di problemi. Se l'interporto si sta rilanciando e come ha detto il Sindaco, finalmente arrivano anche un po' di cassette d'arance, perché i due dipendenti ex talcementi a cui sono scaduti gli ammortizzatori sociali non sono stati assunti lì anziché ad andare ad aggiungere altri dipendenti ad una holding HCS, parliamo di Ippocrate, che già veste in condizioni disastrose, anche se il primo semestre 2013 è ritornato finalmente inattivo, comunque il Sindaco ha sempre parlato di tantissimi debiti, peraltro due dipendenti pagati da due società in liquidazione, Argo e Città Pulita. Non è esattamente così, la domanda è pertinente, in realtà vengono assunti nell'unica società che è in bonus, che è Ippocrate. Sì, ma pagare sono le due in liquidazione. Ma Ippocrate ha bisogno di personale, lo ricordiamo, gestisce soprattutto i servizi legati alle farmacie comunali, è un servizio che va bene, soprattutto da quando ci siamo insediati noi, cominciano a portare i loro frutti e hanno bisogno di personale, a me risulta che forse oltre a quei due ci sarà bisogno di fare anche nuove assunzioni, su Ippocrate. E la domanda a questo punto è, perché non far pagare direttamente Ippocrate, visto che è l'unica delle tre SOT che se lo potrebbe permettere? No, ma attenzione, lo pagherà Ippocrate, i dipendenti sono della SOT, non di HCS, vengono assunti direttamente da Ippocrate, che è l'unica che può assumere, perché, lo ricordiamo, una società in liquidazione non può certamente fare nuove assunzioni. Sì, ma gli stipendi da dove arrivano? Perché il sindaco ha detto, verranno pagati… Dal contratto di servizio tra HCS e Ippocrate e dai utili che genere la società stessa. Quindi non come diceva il sindaco da Città Pulite e Argo? No, non possono, Città Pulite e Argo sono in liquidazione e oggi in lieve recupero, ma che hanno un monte debiti consistente. Questa dunque la situazione per quello che riguarda Interporto e Terme che abbiamo visto anche riportata sui giornali. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa andando a vedere appunto quello che sono altri titoli. Vediamo ad esempio il messaggero che riporta invece questa notizia riguardante i 120 anni della CGL con il segretario Cagliazza che dice dopo 120 anni siamo ancora in trincea. Questo appunto è quanto dice dalla festa del CGL. Poi c'è anche quest'altra frase riportata appunto da Cagliazza, ovvero il segretario che è polemico con il sindaco Tidei dicendo che Tidei è stato ingeneroso, noi non siamo inutili orpelli. Questo è quanto ha lamentato appunto il segretario Cagliazza. Ma andiamo a vedere le interviste che la nostra Daria Gieggi ha realizzato proprio a questa festa per i 120 anni della CGL. 120 anni di storia con lo SPI appunto che può essere in un certo senso il fulcro anche di questa CGL locale. Non a caso appunto lei è qui oggi per questa interessante iniziativa. Beh lo SPI è il sindacato più anziano perché i suoi iscritti sono gli anziani, sono i pensionati sono le pensionate, no? Che sono tutte persone che hanno fatto la storia della CGL. È sempre stato così, vista l'età non può che essere così. Oddio non è che gli iscritti all'ospedio oggi hanno 120 anni, però abbiamo anche iscritti che hanno superato i 100 anni. Proprio qualche giorno fa abbiamo festeggiato una compagna che ha fatto i suoi primi 114 anni, quindi l'ha vissuta bene tutta la storia della CGL. Però a parte questo lo SPI è un sindacato come amo dire io di lotta e di memoria. Di lotta perché vuole continuare a difendere le conquiste del passato e contemporaneamente cercare di conquistare altri diritti, non solo per gli anziani ma anche per i loro figli e per i loro nipoti. Ecco, quanto queste conquiste del passato sono state oggi o sono comunque oggi aggredite? Io penso che negli ultimi dieci anni le politiche dei vari governi che si sono succeduti sono state all'insegna di ridurre i diritti collettivi, i diritti di cittadinanza, i diritti individuali del passato. Alcuni hanno cercato di ridurli, altri hanno proprio cercato di cancellarli e questa è la cosa peggiore. L'attacco alla Costituzione, l'attacco allo Statuto dei lavoratori, l'attacco ai diritti delle persone. In un momento di crisi come questo, questa condizione peggiora sempre di più. Ma come le dicevo prima, noi siamo un sindacato di lotta e di memoria per cui non ci arrendiamo facilmente. Abbiamo sentito le interviste raccolte da Daria Geggi su questi 120 anni della CGL. Sonia, insomma una festa che però appunto come leggevamo anche dalla pagina del Messaggero non sono mancate le polemiche, no? Con Cagliazza che dice, beh insomma ti dai un po' ingeneroso con noi. Che ne pensi tu? Beh più che Sonia io chiederei direttamente al consigliere Lungarini. A Lungarini che ne pensi? Ma io ho notato un ritardo che forse è del satellite, ma perché è un collegamento dalla Cina. Beata, magari, le piacerebbe essere in Cina. No, io credo la stessa definizione di Orpello, l'Orpello è una cosa che è un abbellimento inutile, ma non credo che il Sindaco volesse intendere questo. Magari chiediamo un po' più di collaborazione. Poi insomma è l'occasione di questi 120 anni, forse se la sarebbe potuta risparmiare. Una vecchia signora come la CGL merita un po' più di rispetto. Dopo le prime polemiche che si erano accese proprio all'inizio mandato e fino a poco tempo fa, proprio con i sindacati, CGL in prima linea, il Sindaco Tidei proprio sulla questione HCS, sembra che ultimamente i rapporti erano abbastanza migliorati. Sì, lo penso anch'io. Noi abbiamo avuto un grosso problema, quello della rinuncia fatta a fare ai lavoratori da parte della CGL di quella cassa integrazione che inizialmente avevamo ottenuto per i lavoratori di HCS e che avrebbe dato un po' di respiro alle nostre casse. Per inciso, anche l'operazione di talcementi di ieri, conclusa, si consentirà al Comune di incassare le somme della cessione di quei terreni presi dagli talcementi stessi all'Ater, incassando mi sembra 2 o 3 milioni di Euro che serviranno a pagare gli stipendi e soprattutto a pagare una prima tranche di debiti che fa capo a quel piano di rientro presentato al Tribunale prima e alla Corte d'Appello poi. Quindi insomma ci risolve anche dei problemi legati alla cassa corrente del Comune. Beh, ma soldi che saranno trovati entro la fine di ottobre? Ecco, io spero proprio di sì. È per questo che quel tipo di delibera andava approvata immediatamente. Bene, introduciamo invece adesso la pagina dedicata al comprensorio con questa notizia che troviamo sulla pagina del Curridiano Il Messaggero dove si parla di Santa Marinella e di questo allarme per i fossi sporchi. Questo è il titolo scelto dal quotidiano Il Messaggero. Questa è la denuncia che arriva dall'opposizione. Ci sono canali ostruiti e pericolo alluvioni. A proposito comunque di immondizia per certi versi di rifiuti, l'altra notizia importante di cui si parla ormai già da tempo e che effettivamente è piuttosto importante è quella riguardante i rifiuti. C'è questo tavolo permanente con i sindaci del comprensorio. L'incontro c'è stato alla Pisana, l'accordo con Zingaretti e Civita. Vediamolo anche nella pagina interna del quotidiano La Provincia. Eccolo qua. Rifiuti, tutte le decisioni saranno discusse con i sindaci. Questo è il titolo scelto dal quotidiano La Provincia. I rappresentanti dei comuni del comprensorio hanno chiesto a Zingaretti e Civita la costituzione di un tavolo permanente. Pascucci e Pagliotta, il conferimento a Cupinoro solo una misura temporanea. Questo è quanto dicono appunto i due sindaci di Ladispoli e Cerveteri. Ma vediamo il servizio su questo argomento firmato da Alessandra Rosati. I sindaci del comprensorio Alessio Pascucci di Cerveteri, Crescenzo Pagliotta di Ladispoli, Giuliano Sala di Bracciano e Francesco Pizzorno di Anguillara si sono recati lo scorso lunedì alla Pisana per un incontro con il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e l'assessore regionale alle politiche del territorio e rifiuti Michele Civita. Questo incontro, spiegano i sindaci Pascucci e Pagliotta, ha chiarito alcuni aspetti che riteniamo fondamentali. In primo luogo c'è stata la conferma che Cupinoro non diventerà la nuova discarica di Roma. Ne saranno realizzati altri impianti all'interno di questo comprensorio per ospitare rifiuti provenienti dalla capitale o da altre città. Roma conferirò perciò i suoi rifiuti in impianti realizzati nei confini del territorio comunale. L'accoglimento a Cupinoro di 20.000 tonnellate di rifiuti trattati, proseguono i primi cittadini, che provengono da Roma e da altri comuni è da ritenersi una misura temporanea che decadrà in ogni caso il 31 dicembre prossimo come previsto dal provvedimento del commissario all'emergenza rifiuti sottile. È stato sottolineato con forza, ribadiscono i due sindaci, che tutte le decisioni che riguardano il comprensorio devono necessariamente essere discusse e affrontate collegialmente da tutti i comuni che vengono coinvolti, perché non è accettabile che scelte che hanno un impatto notevole sul territorio vengano prese sopra la testa dei cittadini. Su questo punto abbiamo raccolto con soddisfazione l'accordo e la disponibilità sia del presidente Zingaretti sia dell'assessore Civita che dei sindaci Sala e Pizzorno. Non è un caso se proprio il comune di Cerveteri, in sintonia con quello di Ladispoli, aveva lanciato mesi fa un tavolo dei sindaci dedicato alle politiche ambientali, che aveva tra i compiti prioritari proprio quello di affrontare il tema della gestione dei rifiuti. Nonostante la risposta ottenuta nei prossimi incontri fosse stata buona, rimarcano i sindaci, probabilmente l'importanza di questo tavolo è stata sottovalutata. Abbiamo perciò richiesto alla Regione Lazio di patrocinare il rilancio di un tavolo permanente, raccogliendo il favore di tutti i presenti. I sindaci di Cerveteri e Ladispoli hanno anche sollecitato la ricerca di soluzioni adeguate e tempestive al problema della gestione dei rifiuti indifferenziati. La principale preoccupazione in questo momento spiegano è che dal 1 novembre, come prevede la circolare ministeriale che recepisce la normativa europea, non si potrà conferire il rifiuto indifferenziato non trattato direttamente in discarica. In altri termini, la parte indifferenziata che compone i rifiuti prodotti nei nostri comuni, anche proseguendo l'impegno per l'efficientamento della raccolta differenziata porta a porta, dovrà inevitabilmente essere prima inviata ad impianti di trattamento che non si trovano su questo territorio, bensì sono molto lontani come l'impianto di Viterbo o quello di Guidonia, con costi che ricadrebbero inevitabilmente sui cittadini attraverso la Tares. È indispensabile perciò trovare soluzioni che possano realizzare presto una gestione di rifiuti di ambito comprensoriale. I sindaci del territorio possono concertare la realizzazione di nuovi investimenti per la realizzazione di nuove infrastrutture per il trattamento e la gestione dei rifiuti. Eccoci tornati in studio per continuare la nostra rassegna stampa, però volevo prima far intervenire Lungarini anche su questa questione riguardante i rifiuti a cupinoro, perché non è che c'è il rischio che questi rifiuti gira gira arrivino a Civitavecchia e magari alla centrale Vittorio Valdarica Nord, dove peraltro Balloni è un fautore di questa ipotesi. Purtroppo con Balloni su questo argomento siamo assolutamente in conflitto, come con tutto il resto della maggioranza. Non c'è un componente della maggioranza che sia favorevole ad un'ipotesi di questo tipo e credo che Balloni farà bene a fare un passo indietro e allinearsi con la linea della maggioranza che si oppone a bruciare qualsiasi tipo di rifiuto a Civitavecchia. Abbiamo votato una mozione in tal senso e su questo credo non ci sia proprio discussione. È un po' il discorso che si faceva prima anche con l'inceneritore di Santa Lucia, magari prima si distruggono le armi, poi visto che c'è… Visto che c'è, che fa? Non lo utilizziamo per bruciare i rifiuti. Credo che dobbiamo cercare di scongiurare questo tipo di rischi perché non porta occupazione, porta degrado e porta uno sviluppo nella parte contraria a quello che noi vogliamo che si faccia a Civitavecchia. Sonia, invece tu hai seguito anche un po' questa vicenda dei rifiuti, lo so, e insomma viene fuori questa questione del tavolo permanente con i sindaci del comprensorio. Quello che però stupisce è che forse arriva un po' troppo tardi questo tavolo, o no? La battuta sarebbe dovremmo concordare insieme alle decisioni, forse ci dovevamo pensare prima di cogliere di sorpresa i comuni del comprensorio portando i rifiuti a Cupinoro, sul lago di Bracciano, peraltro una discarica dove già confluiscono i rifiuti di diversi comuni del territorio, dalla Dispoli fino a Santa Marinella. Comuni tra l'altro che entro la fine di ottobre o novembre, adesso non mi ricordo bene, dovranno smettere di conferire rifiuti non trattati e dovranno avviare la raccolta differenziata. E quindi già sorge ancora una volta un altro problema e che si potrebbe riallacciare benissimo a quello che stavate dicendo voi sulla possibilità di bruciare i rifiuti o nella centrale di Torre Valdalica Nord oppure utilizzando l'inceneritore che verrà realizzata a Santa Lucia? Lungarini, a proposito di raccolta differenziata, che è stata un po' sempre una degli argomenti su cui si è battuta molto la sinistra, il centro-sinistra in generale, invece qui siamo al paradosso che abbiamo avuto un assessore del PDL che l'ha avviata, almeno per alcuni quartieri della città e poi si è fermato tutto. Noi abbiamo avuto una raccolta differenziata sperimentale in tre quartieri perché è arrivato il finanziamento da parte della provincia. Dopodiché in questa fase si tratta di riavviare il procedimento per estenderla a tutto il resto della città, è stato presentato il progetto, anche io personalmente me ne sto occupando insieme all'assessore Brusciotti di tenere i rapporti con la provincia che gestisce questi fondi che dovranno arrivare. Abbiamo fatto il piano operativo, dobbiamo aprire e inaugurare l'ecocentro, dopodiché la provincia metterà a disposizione i soldi per partire. Ricordo che questo progetto finanzia soltanto il primo anno di raccolta differenziata, quindi poi ci dovremmo far carico anche delle spese successive. Io credo che sia un altro bel problema, perché vista la situazione delle casse, soprattutto di Città Pulita, HCS diventa un problema. Ma le casse di Città, noi abbiamo un contratto piuttosto importante con Città Pulita, io credo che dovremmo rivedere sia le modalità con le quali vengono elargite queste somme a Città Pulita, sia la reale consistenza del lavoro che poi viene svolta all'interno di quella società. Mi sembra che noi viaggiamo intorno a superiore ai 12 milioni di euro quanto noi versiamo a Città Pulita per pulire la città e non mi sembra che i risultati siano conformi a quanto noi versiamo. I cittadini chiedono un buon servizio, con quella somma secondo me la città dovrebbe scintillare. Si potrebbe dire che forse la maggior parte dei soldi sono utilizzati per pagare gli stipendi di chi ha assunto prima. Esattamente. Allora, chiudiamo la pagina del comprensorio con quest'ultima notizia che riguarda invece Santa Severa perché c'è una nuova ambulanza per la Croce Rossa, questo appunto è quanto scrive il quotidiano La Provincia. Possiamo vedere anche nella pagina interna questo titolo, eccolo qua, nuova ambulanza per la Croce Rossa di Santa Severa. Ieri c'è stata addirittura una cerimonia di inaugurazione del mezzo di soccorso alla presenza del sindaco Bacheca. Le associazioni di volontariato sono l'orgoglio della nostra città, ha detto lo stesso sindaco Bacheca. Chiudiamo la pagina delle comprensorio e andiamo a vedere invece che cosa propone quella dello sport. Con il calcio in primo piano sulla pagina della provincia, il calcio, il campionato di promozione, mercoledì di Coppa per le compagini locali, oggi infatti scendono in campo. Si parla poi anche di pallanuoto con il campionato di serie A2, la SNC Ivan Zanetic venerdì sarà a Civitavecchia, nuovo acquisto a quanto pari della SNC e poi il pugilato con l'intervento da parte di Cherchi che dice che non si è mai chiuso il rapporto con Marsili. Questa è una polemica tutta interna al pugilato tra il manager Cherchi e appunto il pugile Civitavecchiese Emiliano Marsili, ma ci dice meglio su questo argomento Alessio Alessi. Sentiamo. Spesso il nostro destino è nelle mani di terzi, quindi non rimane che incrociare le dita e confidare in queste persone, sperando in qualche gratificazione che ripaghi i nostri sforzi. Emiliano Marsili ha lavorato duro, è diventato prima campione d'Italia, poi d'Europa, il tutto con un record immacolato. Ora, all'età di 37 anni, la chance di una vita, la Coppa del Mondo del WBC, uno scorcio di paradiso della noble heart che affaccia direttamente sul panorama pugilistico più importante, quello degli Stati Uniti d'America, patria del pugilato. Quando però il tizzo sembrava aver raggiunto il tanto atteso sogno nel cassetto, ecco la doccia fredda, o meglio, gelata. Emiliano Marsili è stato depennato dalla lista dei partecipanti al World Cup del WBC. Al suo posto è stato inserito il campione dell'Unione Europea, Brunet Zamora. Come se non bastasse, dopo mesi di intensa preparazione, la notizia dell'ennesimo rinvio della difesa europea contro Vetizian. Un 1-2 che ha messo KO, anche uno che al tappeto non ci ha mandato. Davvero campione, però il tizzo si è subito rialzato, ha lasciato il suo manager Giulio Spagnoli ed è tornato sotto l'ala protettrice di Salvatore Cherchi. Una mossa che potrebbe lasciare quanto meno perplessi se si considera che Marsili si staccò proprio dal procuratore milanese perché lo stesso lo tenne lontano dal quadrato per ben otto mesi. Cherchi, come noto, decise di puntare su Luca Giacon, il pugile di Civitavecchia, virò invece su Giulio Spagnoli. Alla fine, risultati alla mano, entrambi scommisero sul cavallo perdente. Sbagliare umano, perseverare, diabolico e allora avanti come se non fosse successo nulla. Emiliano Marsili e Salvatore Cherchi ancora insieme per scalare la vetta del mondo. Salvatore, spiega il campione d'Europa dei Leggeri, è il meglio che possa offrire la piazza. In passato abbiamo avuto degli attriti, ma entrambi abbiamo capito che per ottenere successi non possiamo prescindere da questa collaborazione. Ha promesso che a metà novembre mi darà la possibilità di difendere il titolo del vecchio continente. La cosa a cui tengo maggiormente però è la partecipazione alla Coppa del mondo del World Boxing Council. È l'occasione per farmi conoscere anche oltreoceano. Spero che Salvatore possa farmi reinserire nella lista della World Cup. Giulio Spagnoli è un capitolo chiuso, conclude il tizzo. Mi ha deluso. Difficile non essere d'accordo con Emiliano Marsili. D'altronde, vista la situazione economica italiana, si possono anche comprendere gli svariati rinvide alla difesa del titolo del vecchio continente, ma riuscire a far depennare il campione d'Europa dalla lista dei partecipanti alla Coppa del mondo del WBC rappresenta un fallimento senza appello. Questo dunque è quanto sta succedendo nel mondo del pugilato, soprattutto appunto come abbiamo sentito tra Cherchi e Marsili. Vediamo invece i titoli sportivi sulla pagina del quotidiano Il Messaggero. Si parla di automobilismo con Vergati, campioni di regolarità, Morali monta sui prototipi. Questo è il titolo. Poi la palla a nuoto che abbiamo visto anche sulla pagina del quotidiano La Provincia, anche se qui si parla invece dei Rosso Celesti che commentano il calendario con un inizio piuttosto complicato. Così come si parla poi anche del campionato di promozione con la compagnia portuale che propone il turnover col Bolsena per una vittoria scaccia crisi. Si parla ovviamente della Coppa. Santa Panella oggi in campo con il piano Scalano di Terbo senza il capitano De Santis che deve ascoltare un turno di squalifica. Questo è quanto scrive il quotidiano Il Messaggero su questo campionato di promozione di cui Lungarini lei non sa assolutamente nulla. Gioca solo a tennis? No, gioca a tennis in interesse di calcio e di tantissimi altri sport. Sono sportivi a 360 gradi. Sì, quindi che... Pranne la box probabilmente, prima io Marsili pensavo fosse il presidente dell'Osservatore Ambientale. Che si era dato al pugilato e aveva litigato con Kerti. Allora io ringrazio davvero i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie a Fabrizio Lungarini e grazie anche a Sonia Bertino in collegamento. Fai piano quando torni a casa. Ciao Sonia e noi ci fermiamo invece un attimo per il consueto spazio pubblicitario, poi l'ultima parte come sempre la dedichiamo alla stampa telematica, prima quella locale, poi un'occhiata anche a quella nazionale. A più tardi.